Seconda parte, continuiamo a parlare di peplum, ma ci spostiamo in letteratura, perché tendenzialmente uno associa il peplum al cinema, giustamente come ho evidenziato nella prima parte, però ce ne sono tracce anche in letteratura. Anzi, a guardare bene, le radici sono lì. Uno dice grazie perché il peplum attinge dal mito. No, intendo qualcosa di diverso con una provenienza letteraria del peplum che andrò a specificare tra poco. E parleremo di peplum in letteratura con alcuni, pochi a dire il vero, romanzi, due di Salgari e un altro invece molto più moderno che si chiama L'Espire del Serpente Eterno. Ma cominciamo dal nostro buon vecchio Salgari, che è un po' di casa qui alla biblioteca del Gatto Rosso. Ne ho parlato in episodi precedenti, riguardo ovviamente un po' alle due linee narrative più famose di Salgari, che sono il ciclo del corzaro nero e il ciclo dei pirati della Malesia. Vi lascio i link in descrizione se voleste andarvi a recuperare questi episodi. L'idea del peplum di Salgari mi è venuta da una pubblicazione, da un saggio, di Luciano Curreri, che si intitola Il peplum di Emilio, storie e fonti antiche e moderne dell'immaginario salgariano. Che è Luciano Curreri? È ordinario di lingua e letteratura italiana all'Università del Piemonte Orientale, a Vercelli. Allora, se siete interessati, purtroppo non lo trovate in commercio. È assolutamente introvabile, nonostante sia solo di, tipo, dieci anni fa, del 2012, se non erro, quindi ok, qualcosina di più. Però è attualmente non disponibile. Ho guardato con molta attenzione, però non si trova. Ho invitato Luciano Curreri come ospite. Lui ha accettato, però ancora dobbiamo definire una data. Verosimilmente, credo, a febbraio o marzo lo potrete sentire qui, su Radio Svolta, alla biblioteca del Gatto Rosso, e parleremo proprio di Salgari. Intanto vado un po' per estrapolazione e per le cose che conosco e ho letto di Salgari. Perché il Peplum di Salgari? Salgari ha scritto anche romanzi storici. In particolare due, Cartagine e Fiamme e Le Figlie dei Faraoni, in epoca più remota. Poi ce ne sono anche altri, ad esempio Il Leone di Damasco. Però quello chiaramente non possiamo in alcun modo farlo rientrare nel Peplum, non ci avrebbe senso. Questi due invece sì, perché sono rispettivamente in epoca romana e nell'antico Egitto. Il Peplum, abbiamo detto, che non è prettamente storico. Nasce da i colossal storici, però poi vira, anzi deraglia in alcuni casi, verso il fantastico. Questi romanzi non sono esattamente un qualcosa di fantastico. Tuttavia ci sono da sottolineare un paio di cose. Anzitutto l'intento molto commerciale di Salgari. Questi sono romanzi destinati un po' al grande pubblico. E quindi ci vedo un po' lo stesso intento commerciale del Peplum, anche se poi a mezzo secolo di distanza. Inoltre, una parte molto avventurosa c'è in questi romanzi, come un po' in tutti i romanzi di Salgari. È per questo che è piaciuto tanto. E lui, pur partendo da fonti storiche e da una documentazione bibliografica, ovviamente fonti storiche dell'epoca, siamo a fine 1800, inizio, inizio 1900, costruisce Salgari un po' un suo immaginario su queste fonti storiche. È un immaginario che dà vita a personaggi iconici sulle serie più lunghe, quindi Corsaro Nero, Tremal Nike, Kammamuri, Sandokan, eccetera. Quindi è vero che anche in queste serie lui si è basato su fonti storiche, ma sopra vediamo tanto un impianto avventuroso e immaginario tipico di Salgari. Quindi, pur non deragliando completamente nel fantasy, Cartagine e Fiamme e Le Figlie dei Faraoni, un pochino lo possiamo associare al Peplum. Ma c'è poi un aggancio che vediamo tra poco, è molto molto interessante. E partiamo allora da Cartagine e Fiamme, che è un romanzo d'avventura pubblicato nel 1908, precedentemente apparso a puntate sulla rivista Per Terra e Per Mare un paio d'anni prima. E dal libro è stata tratta poi nel 1959 un'omonima trasposizione cinematografica da Carmine Gallone, dove recita, tra gli altri, un giovanissimo Terence Hill, che all'epoca aveva tipo vent'anni. Ma risaliamo a qualche anno prima, a una quarantina d'anni prima. A Cabiria, un film famosissimo, lo possiamo considerare, credo, uno dei primi, se non il primo colossal storico. È vero che Cabiria non lo associeremmo subito a Salgari. Ci sono altri nomi di mezzo, ad esempio D'Annunzio. Ma una parte della narrativa del film, una parte della sceneggiatura, è ispirata esattamente a Cartagine in Fiamme di Salgari. E chi compare per la prima volta in questo film, in Cabiria? Maciste. Ovviamente non compare esattamente nelle stesse modalità, non negli stessi toni del Peplum poi degli anni 50 e 60. Però la sua prima comparsata, Maciste, la fa in Cabiria. E quindi ecco un po' un fil rouge che lega Salgari col Peplum. Il romanzo di che parla? Siamo nel 146 a.C. Di mezzo ci sono le vicende della distruzione, ovviamente, di Cartagine durante la Terza Guerra Punica. Il protagonista è Hiram, che è un guerriero cartaginese, condannato all'esilio da Hermon, che è il padre adottivo di Ofir, che è l'amata di Hiram. Quindi trama abbastanza tipica. Vediamo poi il protagonista che rientra clandestinamente a Cartagine. Di mezzo c'è anche una giovane donna romana, Fulvia. E poi ci sono varie trame, tradimenti, eccetera. Ok, romanzo d'avventura tipico, insomma, un po' di Salgari. Non c'è molto da dire. Che probabilmente è uno di quelli che passa di più in sordina perché non è legato a nessuno dei suoi personaggi più famosi. Poi abbiamo Le Figlie dei Faraoni, l'altro romanzo, che è sempre un romanzo storico d'avventura. Del 1905, quindi un po' prima. E qui siamo nell'Africa Mediterranea, nell'antico Egitto. Questa ambientazione e questa epoca storica era molto in voga nel periodo a cavallo tra il XIX ed il XX secolo. E ovviamente siccome Salgari era un autore prevalentemente commerciale, ecco che si inserisce in questo filone narrativo. Il lavoro di documentazione è sempre buono, considerando che Salgari, come ho ripetuto più volte, era uno che per contratto, non per sua scelta, ovviamente doveva scrivere quattro libri all'anno. Quindi qualche scivolone e qualche imprecisione ci sono per forza perché la mole di lavoro è abnorme e il tempo per una revisione e per un'accuratezza ovviamente lui non ce le aveva. In questo romanzo siamo sulle sponde del fiume Nilo, nel periodo d'oro dell'antico Egitto. Nella storia racconta del giovane erede al trono che è spodestato e costretto a vivere sotto mentite spoglie. Viene allevato da un sacerdote e si rimette in gioco solo quando si innamorerà di una fanciulla di sangue reale e quindi lui, proprio in una trama molto classica, farà di tutto per dimostrare la sua origine. È un po' anche alla Robin Hood, qui il tema è tipico. Ovviamente ci sono elementi di fantasia salgariana pur sullo sfondo storico, tanta avventura. Lo possiamo prendere un po' come un pre-Christian Jack di inizio novecento, ok? Christian Jack è un famoso romanziere che ha ambientato una marea dei suoi libri appunto nell'antico Egitto. Spostiamoci a tempi più recenti, facendo un excursus nel gioco di ruolo. E qui, stavolta, andiamo completamente nel Peplum. E vi parlo di un titolo che i giocatori, gli amanti del gioco di ruolo, probabilmente conoscono anche per una riedizione molto recente di questo gioco. Ai più, probabilmente è un titolo completamente sconosciuto. Non vi preoccupate perché finiamo presto di nuovo a parlare di romanzi. Il gioco di ruolo di cui parlo è Lex Arcana, pubblicato per la prima volta nel 93. Un po' l'epoca d'oro delle pubblicazioni dei giochi di ruolo in Italia, con tante case editrici che traducevano. Pochi titoli italiani, a dire il vero. Questo è probabilmente il più famoso di quegli anni lì. Che cos'è Lex Arcana? Per darvi una brevissima e semplice idea, è una sorta di X-Fights nell'antica Roma. Vediamo meglio un po' le sue caratteristiche perché così in contemporanea vi parlo anche dell'ambientazione del romanzo che è l'espire del serpente eterno. In questo Lex Arcana abbiamo un impero romano alternativo che non è mai caduto e la caratteristica è che la magia e il soprannaturale sono reali e hanno giocato un ruolo chiave nel mantenere stabile e potente l'impero. Quindi ci sono appunto i tipici elementi fantastici del Peplum. I personaggi assumono il ruolo dei membri della Coors Auxiliaria Arcana, un'organizzazione segreta che serve direttamente l'imperatore. Questi agenti sono incaricati di proteggere l'impero da minacce sia interne che esterne, quindi ribellioni, cospirazioni eccetera, ma anche da creature mistiche e fenomeni soprannaturali. Ecco qui appunto gli X-Fights nell'antica Roma. La magia ovviamente è radicata nelle tradizioni e nelle credenze del mondo romano, ovviamente con tutti i sincretismi che poi l'impero romano ha fatto, quindi in mezzo ci troviamo anche divinità e credenze di altre culture. Nella storia poi, nelle partite, ovviamente c'è sempre una interazione tra storia e mitologia, anzi il gioco incoraggia moltissimo questa interazione. Per darvi un'ulteriore un po' idea del mood e dell'ambientazione vi cito un breve passo dal manuale che ovviamente sarebbe un finto discorso, un discorso che si immagina avvenuto in questa Roma alternativa e fatto proprio dall'imperatore dell'epoca Teodomiro il 28 agosto del 1229 a burbe condita. Discorso al Senato. E cosa dice Teodomiro? E questo fa capire benissimo un po' il mood del gioco e dell'ambientazione. La nostra società si è croggiolata vanamente nel suo benessere, perdendo ogni spinta dinamica e il sapere magico sta ristagnando ormai da tre secoli nella sterile palude dell'autocompiacimento. Oggi purtroppo stiamo raccogliendo gli amari frutti di tutto ciò e non siamo quasi più in grado di opporci alle magie degli sciamani barbari, dei drudi celtici o dei necromanti persiani. I quotidiani dispacci che giungono dalle regioni distanza ai valli segnalano fenomeni misteriosi e inspiegabili. Gli antichi culti sacrificali mietano nuove vittime con sempre maggiore frequenza, culti proibiti, pratiche magiche non autorizzate e fanatici farneticanti alla fine del mondo si stanno moltiplicando come erbacce. Per far fronte a tale preoccupante situazione, o senatori, vi chiedo di approvare la Lex Arcana, una legge con la quale si dà incarico alla guardia pretoriana di arruolare 600 custodes. Questi uomini e donne dell'impero saranno dotati del massimo grado di autonomia e costituiranno il primo nucleo della Coors Auxiliaria Arcana. I custodes dovranno agire a piccoli gruppi, studiare i fenomeni più inspiegabili, indagare nei vicoli oscuri delle città, infiltrarsi nelle sette proibite, varcare i valli alla ricerca delle antiche fonti del sapere. Verranno scelti tra i più promettenti giovani dell'impero e potranno provenire da ogni provincia e da ogni classe sociale. Riceveranno un addestramento specifico che mirerà a svilupparne al massimo le attitudini e le predisposizioni naturali. Il potere degli eroi di un tempo sarà infuso nelle loro vene e la magia dell'impero sarà al loro servizio. Ecco che siamo nel peplum, in pieno sostanzialmente, a parte poche differenze. Di questo gioco è stata rifatta recentemente un'edizione nel 2018 dopo un Kickstarter di notevole successo e adesso la casa editrice che lo pubblica è la Need Games. Ok, ma veniamo al romanzo perché noi ci occupiamo tendenzialmente in questa trasmissione poi di romanzi e di libri. Da questa ambientazione Davide Mana l'anno scorso, quindi 2023, ha tratto un romanzo che si l'ex arcana, l'espire del serpente eterno, l'editore è Akron Books che avete già sentito qui in trasmissione a proposito sempre di pubblicazioni legate al fantastico. Ovviamente non è una zozzeria questo libro del tipo traspongo la mia campagna a D&D, no, è un romanzo ben studiato che semplicemente si ispira all'ambientazione di l'ex arcana. Ovviamente non è necessario essersi letti manuali o aver giocato all'ex arcana. Il romanzo sta in piedi da solo, è del tutto autosufficiente, anzi è ampiamente godibile e quindi dà tutti gli elementi al lettore per capire un po' l'ambientazione. In effetti se uno non sapesse che dietro c'è un gioco di ruolo, semplicemente si troverebbe di fronte un qualcosa di veramente quanto più simile al peplum sia mai stato fatto in letteratura. L'unica cosa che veramente manca è l'eroe forzuto alla maciste, anche se qualcosettina di simile ci sta. I protagonisti sono un gruppo di personaggi che compongono un contubernium, ricordo che è la più piccola unità militare dell'esercito romano, composta da otto uomini che facevano capo ad un decano e c'erano uno più servi poi. Dieci contubernia formavano poi una centuria. In particolare noi tendenzialmente in questo romanzo vediamo quattro personaggi più qualcun altro di contorno. Chi sono? Abbiamo il libico che è un veterano abilissimo combattente che forse è quello che un po' più si avvicina al maciste di turno senza però avere poteri divini o sovrumani. Simile al libico poi, ma più caratterizzata, è Livilla Terzia Rutila, che è una legionaria dal passato un po' ingombrante, figlia di un generale. Il generale ha voluto però lo stesso inserirla nella vita militare. Lui ovviamente magari voleva un figlio che gli facesse un po' da successore nell'esercito. Rutila di fatto poi diventa lei una militare e entra in questa corsa arcana. Anche lei abile combattente, molto più sfaccettata ovviamente del libico, che è un po' più dritto come personaggio. E abbiamo uno studioso, Appio Quinto Barbato, perché ovviamente ci deve essere qualcuno in queste unità militari che si occupi di classificare questi fenomeni misteriosi appunto alla X-Files e non solo che per combatterli deve trarre forza dalle conoscenze magiche, ma non solo. E poi abbiamo il comandante, Flavio Aurelio Saturnino, poi altri personaggi. Non manca una spalla comica, quindi insomma romanzo e personaggi anche strutturati, un po' veramente come i vecchi film Peplum. E abbiamo una missione iniziale del nostro gruppetto per sventare un oscuro rituale celebrato da adoratori di una divinità un po' tipo il Dagon di Lovecraft. E di mezzo ovviamente ci sono anche delle strane creature marine. Poi si arriva alla missione principale, che è molto più articolata. Parte questa missione da un'indagine a Alessandria. Qui è stato massacrato un contubernium, il contubernium locale, in un vicolo. I segni sui corpi e le tracce nel vicolo fanno pensare a salitori non umani, anche perché insomma hanno spacciato molto facilmente dei legionari esperti. E spuntano fuori quindi creature strane, mostri e gli immancabili scheletri. Di nuovo siamo nel Peplum e a un certo punto gli scheletri devono cacciar fuori. È incredibile sta cosa. Poi ci sarà anche un libro magico, il libro di Thoth, perché sì, siamo nell'impero romano, però un impero romano molto esteso, che comprende quindi anche l'Egitto con tutta la sua cultura e la sua mitologia. Compare poi una creatura gigantesca e il titolo già lo suggerisce, che è questo serpente eterno, sostanzialmente un titano, quindi ci sarà anche un po' un combattimento con un kaiju. E tanta avventura, combattimenti, colpi di scena. Ovviamente la scrittura è impostata per essere un romanzo moderno. Il Forzuto, a mio avviso, in questo romanzo è sostituito un po' da Livilla e dal Libico, come dicevo, soprattutto dal Libico, anche se poi qui di Semidei non ve ne traccia. Comunque c'è da dire che entrambi hanno delle capacità di combattimento molto al di sopra della media, quindi li possiamo vedere quanto di più vicino possibile c'è ad un eroe un po' della mitologia. Anche perché poi loro riescono a spacciare creature che avevano massacrato altri loro commilitoni, quindi decisamente la loro abilità è molto al di sopra della media. Romanzo godibile, ovviamente non aspettatevi il capolavoro, però era interessante notare questa presenza del Peplum anche in letteratura. Chi è amante, insomma, di questo genere e un po' dell'avventura lo consiglio. Godibile e interessante. Ciò detto, siamo in chiusura, quindi vi do appuntamento come al solito alla prossima settimana e buona lettura e buona visione. e buona visione. e buona visione.